Salve a tutti ragazzi e bentornati su Ciak e Azione, oggi volevo parlarvi di The Flash e cosa è accaduto nel finale del film diretto da Andy Muschietti. Innanzitutto voglio ringraziare gli amici di Nerpul che mi hanno mandato per guardare l'anteprima del film. Non smetterò mai di ringraziare, se volete seguire la pagina vi lascio il link in descrizione qui sotto e tutti i rimandi anche alla nostra pagina Ciak e Azione ai nostri social Instagram e Facebook ma bando alle ciance e partiamo immediatamente con questa recensione, cercherò di non dilungarmi troppo per spiegare in modo riassuntivo quello che mi ha attratto di più del film, innanzitutto partiamo dicendo che mi è piaciuto anche se ci sono delle piccole cosine che potevano essere migliorate a partire dalla CGI, soprattutto in una delle scene iniziali in cui vediamo in azione il The Flash di Ezra Miller poteva essere migliorata e anche di molto questa CGI che in parecchi anni non hanno apprezzato alle anteprime chi ha visto il film a Napoli durante il CinemaCon e anche a Los Angeles appunto durante l'anteprima della pellicola. Per il resto devo dire che la CGI ha tenuto e anche parecchio, tranne per quelle sbavature iniziali. Andy Muschietti alla regia ha dimostrato ancora una volta di essere un ottimo regista perché le scene, soprattutto quelle iniziali in cui vediamo correre Ezra Miller e attraversare la strada che lo divide da Gotham City perché viene chiamato all'azione da un Batman che cerca di salvare la città è stata veramente ben diretta. Anche le scene d'azione che riguardano la battaglia contro il generale Zod che vedono la Supergirl di Sasha Calle e il Batman di Michael Keaton sono state veramente ben dirette e ben lineari con la storia che si è andata a raccontare. Un Ezra Miller che, devo essere sincero, è stato veramente grandioso. Non era facile interpretare due diversi Flash, come abbiamo visto già da altri video, questo non è spoiler. Ci sono due diversi Flash, due Barry Allen che hanno due caratterizzazioni completamente differenti perché uno ha seguito la vita che tutti conosciamo e un altro ha seguito una linea temporale differente che non vi metterò qui a spoilerare ma dovete guardare perché sono due caratteri differenti e devo dire che in alcuni tratti ha esagerato un po' sopra le righe la parte del secondo Barry Allen ma in seguito si riprende e anche ottimamente. Un Ezra Miller che è stato accolto da una standing ovation all'anteprima di The Flash nella protezione americana nonostante tutti i danni e i crimini recati quando era in vacanza alle Hawaii ma è evidente che molti dimenticano e la vita privata e quella dentro la macchina da presa sono due cose differenti. Citazione particolare va assolutamente ai due Batman che troviamo nella pellicola. Come sappiamo c'è il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton. Un Batman di Ben Affleck che è in grandissima forma e forse ha la sua migliore interpretazione come Bruce Wayne e come Batman. Leggermente differente il costume che vediamo nel film ma in questa parte della pellicola è evidente che Ben Affleck si è divertito moltissimo e è un saluto da Dio particolare. Un dolce amaro per Ben Affleck perché è evidente che il suo Batman non ha espresso tutte le possibilità che aveva avuto perché forse diretto male o scritto peggio è evidente che quasi nessuno ha amato il suo Batman ma qui si è ripreso con gli interessi quello che poteva dimostrare nei panni dell'uomo pipistrello. Stessa cosa non si può dire di Michael Keaton. Il suo Batman è sempre in grande spolvero, sempre in forma e sempre on fire. Anche qui Michael Keaton non ha perso la sua lucidità e il suo smalto anche se questo Batman che vediamo è un po' più vecchio. Giustamente non hanno ringiovanito l'attore ma Michael Keaton è sempre stato uno dei migliori Batman di sempre e anche qui ne abbiamo la conferma. Devo dire che lo sviluppo che ha avuto è molto interessante e da tratti ti fa salire quelle vibes perché ci sono molte cose come abbiamo visto dal trailer che ci riportano agli anni d'oro del suo Batman e tutto quello che ci ha saputo regalare. Mensione speciale va assolutamente a Sasha Calle come Supergirl. Grandiosa e sempre sugli scuti devo dire che adesso voglio assolutamente un film su questa Supergirl. James Gamma ha in programma un film dedicato alla Supergirl se non sbaglio c'è ma non sappiamo con certezza se ritroveremo Sasha Calle. Io spero vivamente di sì perché vederla sullo schermo è stata una gioia e devo dire che è perfetta come Supergirl. Particolare e emozionante è lo scontro sul finale ma questo andrò a spiegarlo più avanti soprattutto perché ci sono molti cameo come è stato riferito recentemente ma non vi dirò qui lascerò scoprire cosa ci riserva il film vi riserva perché andate a vederlo con tutta l'attenzione del caso perché ce n'è da studiare un po' come Spider-Man into the Spider-Verse ci sono molti cameo da cogliere al momento e devo dire che ne vale tutto secondo me un bel lotto ci sta per questo The Flash perché molti e soprattutto James Gunn aveva enfatizzato moltissimo questo film a lui è piaciuto molto aveva detto che era uno dei migliori cinecomic che abbia mai visto e devo dire che non ci è andato vicino perché ce ne sono di migliori ma forse è uno dei migliori che la DC ci ha regalato recentemente quindi non vedo l'ora di vedere cosa accadrà in questo nuovo universo creato dopo gli eventi di questo film ma andremo insieme successivamente a spiegare e cercare di capire cosa sia accaduto e cosa potrebbe accadere nei film che ci riserva il chapter one Gods and Monster dedicato appunto al mondo DC innanzitutto ragazzi vi ringrazio per avermi seguito sin qui perché adesso voglio andare a spiegare un po' il finale del film perché è stato una serie di eventi che ha ingarbugliato parecchio alcuni dei fan altri invece hanno seguito molto e bene gli eventi finali quindi io vi ringrazio se non avete visto il film ci salutiamo qui altrimenti vi invito a seguire e a restare per capire insieme e parlarne del finale di The Flash grazie a tutti come abbiamo potuto immaginare dal trailer Barry torna indietro dopo che Ben Affleck gli fa intendere che noi siamo ciò che viviamo quindi impossibile tornare indietro per cambiare gli eventi o meglio è meglio evitare di farlo per evitare l'effetto farfarra evitare di cambiare poi il futuro di questi eventi ma Barry come sappiamo anche dai fumetti e dalle varie storie di The Flash non ascolta nessuno e quindi torna indietro nel tempo per cercare di salvare sua mamma soprattutto perché il giorno prima della conversazione con Bruce Wayne il padre avrebbe dovuto affrontare il processo che l'avrebbe visto probabilmente colpevole per l'omicidio della moglie Barry decide quindi di tornare indietro e cercare di cambiare il passato torna indietro sposta il barattolo di pomodoro che la mamma aveva dimenticato e per cui aveva mandato il marito a comprarlo al supermercato e la mette nel carrello facendo in modo che quindi il padre non sarebbe mai uscito per comprare il baratto di pomodoro e avrebbe lasciato la sua mamma e a questo punto tornando indietro nel tempo viene intercettato nella forza della velocità che vediamo rappresentata in questa bolla particolare dove scorre e scorrono gli eventi passati e futuri di Barry e della vita che ha vissuto quindi mentre torna nel futuro viene intercettato da quello che potrebbe essere l'anti flash e scagliato non nel momento del presente ma in quello in cui lui aveva 18 anni e ancora non non aveva preso i poteri quando Barry riesce a dare a far prendere i poteri al Barry del passato il Barry del futuro li perde a sua volta e dovrà in qualche modo cercare di addestrare il nuovo Barry del passato anche in alcune scene un po' grottesche e forse un fuori luogo perché questo Barry del passato sembra un po' cretino un po' scemotto se possiamo così dire e in molti hanno contestato questa questa scelta di inserire battute esagerate e far passare Barry veramente come un idiota dopo aver capito come sfruttare i suoi poteri troviamo nel finale lo scontro che vede Supergirl Batman e loro due dopo che è riuscito a prendere i poteri grazie a Bruce Wayne e alla sua tecnologia ma soprattutto grazie all'intervento di Supergirl che lo ha avvicinato ai fulmini e ha fatto in modo che lui recuperasse i poteri dopo lo scontro sul finale dove capiamo che c'è un nodo specifico che non può essere cambiato ovvero la morte di Supergirl e la conquista da parte di Zod di quella linea temporale di quel mondo Barry torna nel passato e torna al momento in cui aveva messo il barattolo di pomodoro nel cesto della spesa della mamma qui capisce che l'unico modo per far scagionare il padre e non poter salvare la madre perché anche quello è un nodo che non si può cambiare lui decide di spostare la fila di pomodori da in basso all'alto della corsia in modo che il padre invece di guardare verso il basso e prendere il barattolo di pomodoro guarda verso l'alto e guarda quindi verso la telecamera in modo da essere scagionato nella linea temporale che quella presente in questo modo però cambia alcuni dettagli della linea temporale ovvero come vediamo nel film il Batman interpretato da Ben Affleck viene completamente cancellato e interpretato almeno nel film da George Clooney applausi in sala per la sorpresa ma che cosa cambierà quindi in questo universo di sì almeno sicuramente gli interpreti di determinati personaggi partendo da Batman anche se sappiamo che Batman non ci sarà fino a questo momento non è stato ancora dedicato un film di quell'universo al Batman che conosciamo ma abbiamo il Batman di Matt Reeves che è un universo parallelo poi ci sono tutti i cameo vari durante la sua corsa in cui il Anti Flash sta facendo distruggere tutti gli universi per farli implodere in uno soltanto e vediamo Christopher Reeves George Reeves molti degli interpreti di Superman Flash Batman ma questo ne parleremo in un altro video ragazzi io spero di essere stato chiaro spero che questo video vi sia piaciuto io vi invito a lasciare un commento e a dirci cosa ne pensate di The Flash e vi ringrazio ancora per avermi seguito fin qui da Valerio e da Sciacca e Azione ciao a tutti e buona giornata